L'innovazione della singola seduta in radioterapia è veramente un passo avanti verso l'evoluzione e il futuro di questa disciplina. Dovete pensare che in passato le sedute di radioterapia erano molteplici, abbiamo nel tempo cercato di ridurre il numero di frazioni di radioterapia e finalmente siamo arrivati a poter fare con sicurezza e precisione una singola seduta. La singola seduta ha diversi vantaggi, vantaggi per il paziente che soprattutto in era Covid viene solamente una volta a fare un accesso in ospedale, vantaggi per noi perché possiamo trattare più pazienti eliminando le liste d'attesa, ma vantaggi anche scientifici dal punto di vista biologico è stato visto che le dosi alte di radiazioni focalizzate sulla malattia hanno un effetto tumoricida certe volte superiore a quello che siamo in grado di erogare in frazioni diverse. Quindi ci sono molteplici vantaggi per considerare questo tipo di approccio come un approccio innovativo ma soprattutto sicuro e sicuro perché con la macchina che vedete alle nostre spalle che è Unity, questa apparecchiatura con una risonanza magnetica ad alto campo integrata nella sala di terapia riusciamo a vedere perfettamente dove queste radiazioni vengono veicolate, riusciamo a fare delle correzioni sul momento e quindi il nostro bersaglio è sempre dentro il mirino. Il tumore viene colpito con delle dosi assolutamente efficaci, gli organi sani vengono esclusi e in questo modo riduciamo il più possibile gli effetti collaterali e massimizziamo la possibilità di controllo tumorale. Abbiamo nello specifico trattato già due pazienti con singola seduta ablativa, usiamo questo termine ablativa per indicare la possibilità con le radiazioni di sostituirci al bisturi. Noi determiniamo una vera e propria ablazione del tumore che viene necrotizzato da queste dosi massive e tumoricide di radiazioni ionizzanti. La radioterapia in singola seduta che prende anche il nome di radiochirurgia storicamente era limitata da alcuni distretti corporei fondamentalmente e prevalentemente nell'encefalo. In particolare per le metastasi encefaliche la singola seduta è possibile perché l'encefalo ovviamente non è il cervello un organo che si muove. Per gli altri organi invece come ad esempio il torace e soprattutto l'addome dove abbiamo dei movimenti legati al respiro, legati alla peristalsi c'è il movimento dell'intestino, colpire in una singola seduta avrebbe comportato dei rischi. Quindi questo tipo di applicazione è stata fortemente limitata nell'ambito radioterapico. Grazie alle apparecchiature moderne, soprattutto apparecchiatura come la nostra, che ha questa risonanza magnetica che ci guida direttamente e ci fa fare delle correzioni in tempo reale, vediamo chiaramente il movimento, possiamo correggerlo, possiamo far sì che il nostro bersaglio tumorale, anche se si muove, rientra all'interno della zona delle alte dosi di radiazione, escludendo, minimizzando o assolutamente eliminando la dose a carico degli organi e delle strutture critiche che si trovano spesso a contatto o molto vicino alla nostra sede tumorale. Specificamente con questa tecnica abbiamo trattato i primi due pazienti in Italia con questo tipo di apparecchiatura. Sono due pazienti che hanno delle localizzazioni metastatiche addominali, in particolare dei linfonodi. Questi linfonodi sono stati colpiti con precisione, abbiamo già avuto un riscontro ottimo. I pazienti in pochi minuti hanno effettuato la seduta, li stiamo seguendo, non hanno effetti collaterali. È ovvio che i risultati sono ancora preliminari per dire se abbiamo o meno neutralizzato in modo definitivo la malattia, ma insieme a farmaci meno tossici la radioterapia si inserisce in questo contesto, come vedete anche in una singola seduta in modo molto pratico e veloce, per combattere il cancro e per farlo nel modo migliore.